E' tornato in libertà anche l'ultra del Napoli Antonio Marigliano, arrestato in flagranza di ferita per gli scontri della scorsa domenica sulla 1 tra romanisti e napoletani, che avevano bloccato un tratto di autostrada e seminato il panico nell'area di servizio Badia Alpino, dove nel 2007 morì il tifoso laziale Gabriele Sandri. Il GIP del Tribunale di Napoli ha deciso di non convalidare l'arresto dopo aver visionato un video presentato dall'avvocato che assiste il tifoso. L'uomo era agli arresti domiciliari ed è stato denunciato per rissa aggravata. Gli inquirenti gli contestano anche il possesso di oggetti atti ed offendere nei luoghi interessati dal transito di coloro che assistono a manifestazioni sportive. Dai quattro fermi effettuati dopo gli scontri tra tifosi, dunque l'unico a vedersi convalidato l'arresto è stato l'ultraromanista Martino Di Tosto. Il giudice del Tribunale di Arezzo, Elano Apisto, lo aveva comunque scarcerato sottoponendolo all'obbligo di firma e di dimora nel comune di residenza. Di Tosto era stato arrestato dopo che i compagni lo avevano scaricato con ferite da taglio alle gambe davanti al pronto soccorso di Arezzo, poi erano fuggiti. Il processo per direttissime è stato aggiornato al 25 gennaio. Due ultra della Roma erano stati invece già rimessi in libertà, il GIP di Roma non aveva convalidato l'arresto sulla base della flagranza di ferita, adesso tutti gli atti passeranno ad Arezzo.